Siamo nello stand del componentista ZS che qui mostra lo stato dell'arte dei suoi sistemi montati su veicoli con carrozzeria trasparente. Ben visibili gli airbag, incluso quello centrale per evitare l'impatto delle teste dei passeggeri in caso di urto laterale, lo sterzo completamente elettronico senza collegamento fisico fra le ruote e il volante e il motore elettrico che fa sterzare le ruote posteriori. ZF è da sempre uno specialista delle trasmissioni e qui ha portato il prototipo di un cambio automatico a 8 marce con motore elettrico integrato per veicoli ibridi a trazione posteriore o integrale e motore longitudinale. È l'evoluzione della trasmissione già montata da BMW, FCA e Jaguar Land Rover e si presenta più compatto grazie all'inverter incorporato e adotta motore elettrico più potente che adesso arriva fino a 150 kilowatt. Dato che ZF realizza componenti per la guida autonoma, qui ha portato anche un simulatore che serve per verificare l'efficacia dei loro display nell'aumentare la tranquillità e la fiducia di chi siede nell'auto mentre a guidare ci pensano i microchip. Lo proveranno migliaia di visitatori del salone.